Tutti noi salviamo foto, video e documenti. Ma dove? C'è chi li salva in mille posti diversi per spendere poco, ed è un caos. C'è chi li salva in pochi grandi archivi online, ma a caro prezzo. E poi c'è Aruba Drive. La piattaforma online ha spazio illimitato per gestire tutti i tuoi file multimediali. Archivia tutto quello che ti serve in uno spazio sicuro e senza limiti. Senza confini, senza costi aggiuntivi. Salvi, modifichi e condividi materiali velocemente. Crea cartelle, documenti, fogli elettronici e presentazioni direttamente nel Drive. Il massimo anche per i professionisti. Interagisci da qualsiasi dispositivo, con il tuo team o con collaboratori esterni in un'unica piattaforma super sicura. Perché i tuoi dati sono protetti e gestiti sui server di Aruba, in data center proprietari in Italia. Aruba Drive, il tuo spazio illimitato. Alonso Alonso Grazie a tutti